Dovrà sfilarla dalla testa del re Buonasera gentili amici ed amiche di Funder Media Service Un cordiale saluto vi giunge dallo Sport City di Trigoria Dove sono scesi in campo in questo istante i calciatori di Blisseura e Ragnatela Pub Che a breve si affronteranno in una gara valevole per la terza giornata della Serie A della Lega Calcio 8 Con il pallone viene messo in mezz'ora C'è la gran botta di Cuccini al lato di Pogo Con Gavioli che rientra sul destro Serve Aquino che va alla conclusione Ancora Ripani In questo esordio di campionato per il Blisseura Attenzione ora a Lanzi però ha quasi posizione di sparo per lui Che prova il destro E si inventa il gol dell'1-0 L'avevamo chiamato Andrea Lanzi Troppo libero Incastra sotto l'incrocio il gol del vantaggio Di Mr. Dupachè con il gol del numero 4 Andrea Lanzi Mentre dall'altra parte subito il miracolo di Ripani Sfidarsi a Remoli a testa alta il numero 6 Osserva il posizionamento dei compagni E poi trova il gol del pareggio Ma questa purtroppo è una papera di Ripani Che sul destro da distanza siderale di Remoli Si fa passare il pallone sotto la pancia Dovrebbe andare Morezzi Barriera Monster per il Blisseur Ci sarà il tocco di Lanzi per Morezzi Si attende solo il fischio che arriva ora Va Morezzi il tocco sotto Traversa E poi si salva Ballanti Aquino e allora Cardinali Alla palla sul destro Lo prova Cardinali Si oppone Bombardieri in qualche modo Vitale che poi alimenta il solito giro palla Ma attenzione a Morezzi La transizione offensiva del Ragnatela Può essere il break importante per la formazione Maglia Bianca Parresce Arriva Morezzi E il 2-1 della Ragnatela Con Morezzi Che rimane colpito all'interno della rete Ma sta di fatto che la Ragnatela Si riporta in vantaggio allo Sport City Quasi tutti i calci d'angolo C'è il pallone Messo in mezzo per Morezzi Che sfura la rete Con le mani a cercare un compagno Ma di fatto il pallone Termina tra i piedi di Morezzi Morezzi fa tutto da solo Il cost to cost E poi il destro Che sfila di poco sul fondo Indurre il giocatore A abbandonare il terreno di gioco Così non è infatti E su questo pallone Controllato da Morezzi Arriva il triplice fischio del direttore di gara Termina quindi così Con la Ragnatela che spugna Lo Sport City E si impone per 2-1 Sul Blisseur È stata una partita molto difficile Al di là del gol Un po' la fortuna Un po' Il momento forse che stavamo attaccando Hanno sofferto un po' in quel momento Abbiamo affrontato comunque Una squadra di esperienza Noi comunque all'esalvio in Serie A Quest'anno Ci può stare Io penso A parte la Diciamo la costruzione Nelle ripartenze Un po' la velocità di gioco Perché comunque l'organizzazione c'è In campo siamo messi bene Riusciamo a reggere anche L'avversario Forte come loro Ci manca il gol purtroppo Quello che ci porta alla fine I tre punti Vero abbiamo fatto Due partite Due belle partite Tutte due belle squadre E Fortunatamente Ci è andata bene Quindi sì È un campo fortunato È una vittoria che fa morale E È una vittoria come dici tu Speriamo Da grandi squadre Perché comunque anche Non brillando Si va Si arriva alla vittoria Anche se Oggi Siamo arrivati sotto porta Diverse volte E per Forse perché ci sentiamo Troppo Troppo belli Lì davanti Ci mangiamo Diversi gol Quindi Forse dobbiamo essere Un po' più concreti Però la prestazione Non è tutta da nancellare Anzi So